e a proposito di praticità voglio iniziare attraverso un passaggio cercherò di andare veloce e conciso va bene quindi però non voglio arrivare al dunque perché stiamo toccando un argomento veramente importante e che è nel mio cuore già da diverso tempo infatti avevamo avuto un modo anche di condividere con l'apostolo lorenzo e però voglio iniziare da questo versetto che è colossesi non è capitolo 1 ma sbagliato a segnarlo scusate no colossesi 2 18 19 il problema di questo leggio che è un po piccolo colossesi 2 18 19 e dice l'apostolo paolo scrivendo ai colossesi nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli fondandosi su cose che non ha visto essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale e non attenendosi al capo da cui tutto il corpo ben nutrito e tenuto insieme mediante le giunture le articolazioni cresce con l'accrescimento che viene da dio l'apostolo paolo sta scrivendo ai colossesi dicendogli state attenti ai falsi profeti ok io non voglio entrare questa sera a parlare dei falsi profeti non mi interessa ma l'apostolo paolo sta parlando di un'attenzione specifica che è quella di non perdersi dietro a delle favole vane di stare dietro a tanti grandi ragionamenti va bene perché oggi noi cristiani oggi noi credenti rischiamo abbiamo un grosso rischio che è quello di conoscere tanto e di arrivare poi a un certo punto in cui perdiamo veramente il contatto con la realtà delle cose soprattutto delle cose di dio ok quindi l'apostolo paolo ci dà un'attenzione dice state attenti a che nessuno vi dirubi del premio con un pretesto di umiltà di culto degli angeli fondandosi su cose che non ha visto essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale e qui sembra un po a farla apposta si parla tanto di angeli ultimamente gloria a dio per quello che è giusto parlare degli angeli ma parliamo torniamo veramente al messaggio del fondamento di cristo non perdiamo la base di cristo ok io credo che il signore sta veramente dando alla sua chiesa un'opportunità oggi in un tempo difficile in un tempo glorioso ma anche allo stesso tempo difficile di tornare al vero fondamento di cristo perché spesso noi rischiamo di perdere il fondamento a volte noi ci sembra di dire a sempre le cose sul fondamento no è importante perché noi dobbiamo sapere qual è la nostra partenza dove noi siamo fondati e noi dobbiamo non perdere assolutamente concretezza da questo punto di vista quindi non dobbiamo rischiare di perderci dietro a favole vane ma ricordarci sempre di cristo gesù cristo che è la verità di dio la verità non è una dottrina la verità non è una religione la verità è una persona che è gesù cristo ok e troppo spesso noi ce ne dimentichiamo troppo spesso bene quindi noi siamo in movimento e non sempre noi ragioniamo con i ragionamenti di dio dobbiamo permettere a dio di trasformare la nostra mente di ragionare come lui ci vuole far ragionare noi siamo stati provati quest'anno va bene in tanti passaggi non solo uno ma in tanti passaggi ma questo è la dimostrazione che dio è buono verso di noi perché dio ci sta facendo crescere e dio sta permettendo questo anche questo passaggio del meeting che è arrivato in un momento specifico come dio è sempre puntuale dio non è mai in ritardo fratelli e sorelle va bene dio è sempre puntuale arriva nel momento giusto nel luogo giusto nell'attimo giusto nella situazione giusta perché dio ci sta portando nuovamente a un fondamento non perché non c'era il fondamento il fondamento c'era ma noi abbiamo a volte costruito in una maniera diversa abbiamo permesso che la nostra mente la nostra carne e anche le nostre situazioni costruissero una maniera diversa mentre dio riporta sempre a quel punto se noi lo seguiamo realmente amè noi a volte ragioniamo sulle situazioni vediamo le situazioni diciamo allora vedi quella situazione va bene perché va tutto bene quella situazione va male perché va tutto male non è vero noi non sappiamo qual è il piano di dio per la nostra vita noi siamo soltanto chiamati come fedeli servi come fedeli figli a fidarci di lui e a camminare dietro a lui amè alcuni sono stati provati quest'anno molti sono stati provati l'opera è stata provata ma dio è buono e dio ha permesso questo perché lui ci ama e perché non vuole lasciarci ma proprio perché lui ci ama ci ha umiliati e ci rialza perché lui ci vuole portare ancora più avanti amè e io voglio dire questo lo dico pubblicamente perché sono tanti ragionamenti nostri delle persone intorno ma non mi interessa non mi interessa perché noi siamo chiamati a proclamare la verità di dio e la verità sapete qual è che colui che ha iniziato una buona opera in voi e in noi la porterà a compimento perché gesù è il cristo gesù è il capo della chiesa gesù è risorto gesù è il signore della nostra vita e noi lo dichiariamo e noi lo proclamiamo e noi non temeremo non temeremo perché non ci interessa non ci interessa se tutte le cose vanno bene o se le certe cose vanno male a noi ci interessa solo una cosa seguire dio perché dio ci porta dove lui ha stabilito amen 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 quindi dobbiamo stare attenti alla nostra mente carnale e sapeteci dobbiamo stare attenti perché poi noi cristiani costruiamo un mondo a parte è vero no noi cristiani a volte rischiamo tanto troppo nella nostra vita ma non perché ci confidiamo nel signore ma perché noi costruiamo sulle nostre esperienze no allora noi cosa facciamo guardate cosa succede nella nostra vita noi conosciamo il signore arriviamo dal signore il signore ci rinnova che bello che bello che bello poi la nostra vita andiamo avanti pian pianino secondo spesso un'abitudine e una routine quindi arriviamo dopo 10 anni 15 anni vent'anni di cammino 25 chi 30 arriviamo a un certo punto che noi vediamo le cose non come il signore realmente ce le mostra ma per quello che abbiamo pensato in tutti quei 20 anni allora il signore cosa fa a un certo punto fa piazza pulita ci libera la nostra mente ci umilia perché ci vuole riportare a vedere le cose nuovamente con chiarezza va bene e questo è il signore buono perché il signore non elimina i nostri anni passati assolutamente va bene dio non elimina il nostro passato ma elimina quelle cose che abbiamo aggiunto noi per riportarci secondo la sua perfetta volontà amene e noi abbiamo fatto sempre una richiesta al signore signore portaci dove tu vuoi signore guidaci come tu vuoi signore mantienici nella giusta disposizione del cuore signori umiliaci signore prenditi la gloria signore abbassaci se necessario e dio lo sta facendo dio lo sta facendo quindi vedete la cosa bella è che dio è fedele questa è la verità questa è la verità questa è la verità dio è fedele e in questo noi dobbiamo manifestare un'attitudine e sapete qual è quella di dimenticarci le cose che stanno dietro in questo ultimo periodo una delle cose e poi stavo rileggendo dei libri anche di recente una delle cose che mi colpisce tanto è che il signore quando ci incontra ci parla e ci parla del nostro futuro chi è che è successo a incontrare il signore e il signore ha parlato del futuro quanti di noi alzate la mano non avete paura o il signore vi ha solo parlato del vostro passato io io credo il signore vi ha parlato più del futuro e del passato perché il passato il signore lo sapeva di già però vi voleva rivelare qual era il vostro glorioso futuro o no amen il problema non è di dio il problema è nostro perché noi a volte non riusciamo a vedere il futuro perché siamo così ancorati al nostro passato è vero non è vero quando è che voi perdete la speranza quando vedete le cose che stanno indietro quando vedete le cose che vedete oggi e quando non riuscite a vedere le cose che stanno davanti è la verità dobbiamo prendere un'attitudine che è di dio e il signore mi ricordava un passaggio che per me è stato fondamentale nella mia vita perché quando ancora non conoscevo bene il signore mi veniva ripetuta costantemente questa parola che è in isaia 41 no lo ricordate isaia 41 ce l'avete voi chi è che non lo conosce sia 41 io penso lo conoscano tutti isaia 41 che è una promessa al versetto 8 dice ma tu israele mio servo giacobbe che io ho scelto progenie di abramo mio amico che ho preso dall'estremità della terra che ho chiamato dagli angoli più remoti di essa e ti ho detto tu sei il mio servo ti ho scelto e non ti ho rigettato non temere perché io sono con te non smarrirti perché io sono il tuo dio io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia ok e al versetto 14 dice no scusate al versetto 11 dice ancora ecco tutti quelli che si sono infuriati contro di te saranno svergognati e confusi quelli che combattono contro di te saranno ridotti a nulla e periranno tu li cercherai ma non troverai più quelli che contendevano con te quelli che ti facevano guerra saranno come nulla come cosa che non esiste più poiché io l'eterno il tuo dio ti prendo per la mano destra e ti dico non temere io ti aiuto non temere o verme di giacobbe o uomini di israele io ti aiuto dice l'eterno e mi colpisce questa parola a posteriori dopo anni che l'ho letta perché il signore dice a un certo punto non temere o verme quanti si sentono dei verme a volte quante volte ci sentiamo dei fermi il signore dice io non temere o verme di israele ora non glielo diceva in maniera offensiva va bene gli diceva essere piccolino va bene piccolino però può essere anche dispregiativa come affermazione no quindi perché un verme è qualcosa che non ha molto valore quando voi vedete un verme che cosa fate ok quindi dio poteva fare la stessa cosa con noi vedeva la nostra condizione come dei vermi e ci schiacciava ma il signore ci ha parlato e ha detto io ti do un glorioso futuro ancora quando sapeva che noi eravamo dei vermi o no dio ti ha scelto nella condizione di verme per darti un glorioso futuro ed è particolare questa parola perché noi spesso invece che guardare avanti sapete cosa facciamo guardiamo dietro guardiamo al verme e non guardiamo al futuro il signore ci ha chiamato ma ci ha detto non temere perché io quelli che combattono con te saranno come cosa che non esiste più ed è importante per noi ricordarci questo perché la parola di dio nel salmo 103 dice quanto è lontano e levante dal ponente tanto egli ha allontanato da noi le nostre colpe cosa significa che dio ha cancellato tutto ciò che ci separava da lui dio ha cancellato tutto ciò che era nel nostro passato dio l'ha utilizzato nel nostro passato per portarci a lui e spesso noi siamo più a riguardare il nostro passato piuttosto che vedere il nostro glorioso futuro in cristo parlavamo stasera e dicevamo che quando guardiamo indietro diventiamo di sale come è successo alla moglie di lotta ok il signore ci dice stai attento a dove guardi guarda avanti piuttosto che guardare indietro perché gesù ha allontanato da noi le nostre colpe è bellissima questa frase voi avete mai pensato quant'è lontano e levante dal ponente ci avete mai riflettuto? se il sole sorge da una parte e tramonta dall'altra vuol dire che il levante e il ponente non si incontreranno mai avete mai visto il levante e il ponente incontrarsi? il tramonto e l'alba scontrarsi insieme? no sono due opposti che non potranno mai 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 incontrarsi e così è il pensiero che dio ha per noi il problema è che noi spesso invece viviamo col nostro passato ci portiamo dietro i nostri fallimenti ci portiamo dietro le nostre paure ci portiamo dietro i nostri errori anche come figli di dio guardate io non sto parlando soltanto della nostra vecchia vita ma io sto parlando anche della nostra nuova vita in cristo che a volte ci condiziona di più che la nostra vecchia vita perché spesso noi abbiamo un'attitudine e qui parlo ai più vecchi, ai più pecoroni che cosa facciamo? noi conosciamo il signore ah che bello, che bello, che bello abbiamo conosciuto il signore la nostra vita passata in qualche maniera sì ancora ci vergogna un po' invece il signore come ha detto uno scrittore dice Dio è così capace di trasformare le nostre cicatrici come dei fini intagli in un bellissimo mobile va bene? perché Dio usa tutto ciò che ci è stato fatto di male e tutte le nostre sofferenze per portarle alla sua gloria come qualcosa di particolarmente prezioso ok? e questo sarebbe già un punto da riflettere nella nostra vita ma spesso noi arriviamo al signore conosciamo il signore poi a un certo punto ci fermiamo e da lì risettiamo tutto iniziamo la nostra nuova vita la nostra nuova vita perché noi siamo ancora fatti di ciccia e di carne va bene? non soltanto di spirito ma siamo fatti anche di carne vero Gerardo? parecchia dice lui in cui noi camminando col signore abbiamo delusioni sbagli errori cadiamo ci rialziamo a volte sbagliamo a fare delle cose e guardate tutte queste cose spesso noi le immagazziniamo e le mettiamo da parte dentro la nostra mente e dentro la nostra anima e spesso condizionano il nostro essere figli di Dio tant'è che arriviamo a un certo punto dopo vent'anni di cammino e non siamo così liberi come forse lo eravamo una volta vi sembra o non vi sembra questa cosa? lo sapete perché? perché Dio dimentica ma noi non dimentichiamo questo è il problema principale perché noi abbiamo paura dei nostri sbagli perché noi abbiamo paura dei nostri errori noi abbiamo paura di vedere in faccia la realtà delle cose e abbiamo paura anche di cancellare i nostri errori e non siamo liberi di essere perdonati da Dio e di perdonare anche noi stessi e questo ci dimostra che noi ancora non abbiamo compreso veramente il perdono di Dio verso di noi guardate la vostra vita fermiamoci ogni tanto è importante fermarci riflettere durante il vostro sia la vostra vecchia vita o il vostro cammino al Signore vedete delle cose che ancora sono presenti nella vostra vita? ci sono dei ricordi che sono ancora così forti dentro di voi? o no? allora vuol dire che ancora c'è un perdono particolare che deve scendere nel vostro cuore non perché Dio non vi ha perdonato ma perché voi non state ricevendo il perdono che Dio vi vuole dare e che ci libera realmente e spesso la nostra vita da credente guardate ci segna di più che la nostra vita del passato vi sento silenziosi ma Dio ha cancellato ogni cosa la parola di Dio ci dice che Dio ha cancellato ogni cosa se voi avete chiesto perdona a Dio e voi credete che Dio vi ha perdonato Dio ha cancellato ogni cosa e guardate quando Dio dice che ha cancellato ogni cosa non è che cancella le cose per ritirarcele fuori al momento opportuno quello non è cancellare quello vuol dire mettere da parte della nostra attitudine noi facciamo una cosa come i figli di Dio pensiamo che quella cosa è cancellata ma spesso non la cancelliamo la mettiamo da parte e questa è un'attitudine peccaminosa dentro di noi vogliamo parlare di santificazione? si parla tanto di santificazione veniamo aditati perché dice non si parla mai di santificazione allora parliamo di santificazione santificazione non è soltanto dire una cosa una parola giusta piuttosto che una sbagliata guardare il film giusto piuttosto che il film sbagliato fumare piuttosto che non fumare pensiamo cosa stiamo facendo nella nostra vita è peccato noi prendiamo ci mettiamo nella posizione di Dio e piuttosto che cancellare le nostre cose le mettiamo da parte Dio le ha cancellate in Cristo lui ci ha dato un avvocato presso il Padre Gesù Cristo è il giusto mentre noi prendiamo le nostre anche esperienze negative come figli di Dio le mettiamo lì da parte perché nel momento opportuno ci possono far comodo e le ritiriamo fuori e le usiamo come giustificazioni le usiamo come accusa verso noi stessi e anche verso gli altri questo è peccato perché noi ci stiamo mettendo nella posizione di Dio e non stiamo ricevendo il perdono che Dio realmente ci vuole dare e facciamo danno a noi e facciamo danno agli altri ci siete? Dio ha cancellato Dio non si è vergognato dei nostri errori Dio non si è vergognato dei tuoi errori noi ci vergogniamo dei nostri errori noi ci vergogniamo degli errori degli altri ma Dio non si è vergognato dei nostri errori e Dio ha permesso che noi sbagliassimo ha permesso che noi fossimo umiliati Dio ha permesso che anche altri fossero umiliati perché Dio ci forma nel suo carattere e il suo carattere non è soltanto dire non risbaglierò ma il suo carattere significa avere la sua attitudine ricevere ciò che lui ci dà e il dimenticare le cose che stanno dietro per afferrare le cose che stanno davanti per questo dico dobbiamo imparare di più sul perdono perché noi non dimentichiamo purtroppo questa è un'attitudine della nostra vita noi mettiamo da parte ma siamo chiamati veramente a dimenticare per questo oggi la sfida più grande della Chiesa è guardare avanti pronti per le nuove cose le nuove avventure le nuove opportunità guardate la Chiesa spesso guarda più indietro che avanti c'è divisione nella Chiesa perché si guarda più a cosa è successo ieri cosa sta succedendo oggi piuttosto che vedere che cosa succederà domani secondo la grazia di Dio il nostro problema è che noi non cancelliamo pensiamo a volte che cancellare sia superficialità quante volte avete pensato quante volte i pastori anche stessi hanno detto queste cose ci siamo incontrati ci siamo riuniti si dice ma lì è successo questo è successo questo è successo questo non si riesce ad andare oltre non si va oltre non si va oltre Dio è andato oltre Gesù è andato oltre o no perché se si fermava a quello non c'era nessuno eravamo da un'altra parte ma Dio è andato oltre ora se Dio può perdonare perché noi non possiamo ricevere il perdono di Dio perché noi non vogliamo ricevere il perdono di Dio e mi tornava alla mente proprio in questo ultimo periodo infatti poi avevamo parlato con l'Apostolo Lorenzo poi non c'è stato molto modo di condividere ma un insegnamento che portai qualche anno fa ad Agape in cui si toccò vari aspetti e c'era proprio questa parola che è in Matteo 18 23 prendete un attimo Matteo 18 23 35 Matteo 18 23 ci siete? anche quelli a casa possono prendere la loro Bibbia perché il regno dei cieli è simile ad un re il quale volle fare i conti con i suoi servi avendo iniziato a fare i conti gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti e non avendo questi di che pagare il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie e i suoi figli e tutto quanto aveva e il debito fosse saldato allora quel servo gettandosi a terra gli si prostrò davanti dicendo signore abbi pazienza con me e ti pagherò tutto mossa a compassione il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito guardate il signore si è mosso a compassione la compassione è un sentimento attivo che spinge a fare delle cose ha spinto Dio Padre a dare Gesù Cristo per noi ok? ma quel servo uscito fuori incontrò uno dei suoi conservi quindi era già servo e incontrò i suoi conservi quindi in questo caso sono i nostri fratelli che gli doveva 100 denari gliene sono stati condonati quanti? 10.000 anzi attenzione 10.000 talenti guardate il talento era una moneta d'oro preziosissima quindi a lui gli erano stati condonati 10.000 talenti e a una persona con lui un debito di 100 denari che era la moneta più bassa ok? gli doveva 100 denari afferrandolo per la gola lo soffocava dicendo pagami ciò che mi devi allora il suo conservo gettandosi ai suoi piedi lo supplicava dicendo abbi pazienza con me ti pagherò tutto ma costui non volle anzi andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato il debito ora i suoi conservi visto quanto era accaduto ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto allora il suo padrone lo chiamò e se gli disse servo malvagio io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai supplicato non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te e il suo padrone adiratosi lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva così il mio padre celeste farà pure a voi se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli ci sono due cose che colpiscono in questo passaggio uno è il fatto che il signore ci chiama a perdonare di cuore perché non dice perdona ma perdonare di cuore quindi vuol dire che il perdono non è solo a parole il perdone deve diventare un fatto reale perché non si ferma sulla superficie deve essere un perdono che entra dentro la nostra vita e che ci costringe a fare cose che prima non avremmo fatto cambia le nostre azioni e l'altro passaggio è che Dio dà questa persona in mano agli aguzzini sapete chi sono gli aguzzini secondo la parola di Dio sono i tormentatori va bene quindi sono coloro che ti tormentano quindi il non perdono ci porta al tormento guardate la chiesa di Dio ci sono anche in mezzo a noi tante persone che sono tormentate e hanno dei tormenti nei loro pensieri e sapete per quale motivo ci sono questi tormenti? perché non stanno perdonando non stanno perdonando oggi molti sono tormentati nella chiesa perché hanno lasciato il fondamento giustificandolo con false dottrine con false dottrine significa anche con false argomentazioni con falsi pensieri con giustificazioni noi abbiamo permesso che il non perdono entrasse nella nostra vita perché in qualche modo avevamo giustificazione e giustizia per dire di poterlo fare è vero e sapete che cosa abbiamo ottenuto? tormento ci sono menti di persone qui che sono tormentate costantemente e non riescono ad uscire da questo pensiero e non riusciranno ad uscire da questo pensiero fino a che non decideranno di cuore di perdonare è importante il perdono verso gli altri e verso noi stessi perché il non perdono ci blocca al passato il vostro non perdono vi blocca al passato se io non perdono vuol dire che sono bloccato dietro ora il signore vi faccia vedere questa immagine io a volte cerco di andare avanti con una mano che tiene dietro e più che vada avanti più che il signore mi dà un peso grande da portare se io la mano non la tengo nella giusta posizione il mio braccio a un certo punto cederà e sapete quando cede il braccio dietro cosa devi fare? ti devi girare devi tornare indietro per riuscire a portare quel peso ma il momento in cui torni indietro sei fregato ta diventi di sale se vuoi andare avanti devi liberarti del peso dietro se vuoi andare avanti ti devi liberare del passato che c'è dietro e liberare del passato dietro non vuol dire metterlo da parte vuol dire cancellarlo cancellarlo Gesù ha cancellato il nostro passato Gesù non lo vede più Gesù non è che ce lo ritira fuori ripeto ogni tanto dice ma te quella volta hai fatto questo lo cancella e la nostra attitudine deve essere quella di Dio perché se no viviamo nel tormento non possiamo ricevere il perdono di Dio ma non perché il Signore non ce lo vuole dare ma perché siamo noi incatenati al passato siamo noi bloccati e il diavolo viene e ci tormenta e Dio permette che lui ci tormenti guardate bene Dio è così buono che ci permette anche di essere tormentati e lo permette perché non vuole che andiamo avanti con quella cosa lì se non perdoniamo non permettiamo che il perdono di Dio abbia efficacia nella nostra vita perché siamo legati a cose vecchie che Dio vuole cancellare ma il nostro non perdono non glielo permette Dio vuole sanare la tua mente Dio vuole sanare il tuo cuore Dio vuole sanare la tua vita ma se te non perdoni non stai permettendo a Dio di cancellare il passato sei te che stai tenendo il passato nelle tue mani l'ame non c'è lo so sei te che stai tenendo il passato nelle tue mani e non puoi aspettare che lo facciano gli altri verso di te ognuno ha una responsabilità di fronte a Dio spesso noi come figli di Dio diamo la colpa agli altri e questa è un'attitudine umana perché Adamo dette la colpa Eva Eva ha detto è la colpa al serpente ma è colpa sua deve essere lui lui mi ha ferito e te cosa stai facendo qualche domenica fa no ve lo dico dopo andiamo avanti su un'altra cosa Isaia 61 1 dice che Gesù Cristo è venuto a portare la libertà ai che bella parola dice io sono venuto per liberare quelli in cattività fasciare quelli dal cuore rotto proclamare l'anno di libertà ai prigionieri che bello signore che gloria sapete da che cosa la prigione siamo prigionati da noi stessi libertà quella in cattività libertà ai prigionieri cioè le persone imprigionate dal giudizio coloro che hanno aperto la porta ai tormentatori attraverso il peccato e il non perdono questa parte non la vogliamo affrontare noi siamo contenti urliamo di gioia diciamo signore grazie perché tu ci liberi grazie signore perché tu sei venuto a proclamare l'anno di libertà ma dobbiamo essere noi a lasciare le cose nelle mani di Dio Dio non lo può fare se tu non vuoi Dio non ti può liberare se tu non decidi di essere liberato perché Dio è un gentiluomo e dipende da te cosa stai tenendo nelle tue mani cosa decidi di tenere ancora il passato o di afferrare il tuo futuro di afferrare le cose che stanno avanti ci sono cuori in questo momento che hanno difficoltà ad andare avanti perché non hanno volontà di lasciare le cose dietro e per andare avanti devi lasciare le cose dietro altrimenti tu morirai altrimenti tu morirai in un deserto e non ce la farai perché arriverà un punto in cui il peso sarà troppo grande e il tormento sarà troppo forte che te getterà la spugna questa è la verità della parola di Dio il perdono riscrive la nostra storia questa è la verità il perdono riscrive la tua storia te hai nelle mani la possibilità di riscrivere la tua storia e non importa che cosa hai passato non importa le ingiustizie che hai subito puoi avere anche tutte le ragioni di questo mondo ma sei chiamata a perdonare sempre perché Gesù è finito sulla croce ingiustamente ma ci ha dato il perdono e se Lui lo ha fatto noi lo possiamo fare oggi perché Lui ci ha amati per primo come si diceva oggi e questo è l'amore e questa è la nostra responsabilità noi che tanto predichiamo il Signore per questo dico a volte ci perdiamo dietro a grandi dottrine ma poi ci dimentichiamo del fondamento dobbiamo tornare alla base gloria a Dio per ogni bella rivelazione del cielo che ci dà gloria a Dio per ogni visione per ogni parola amen ma stiamo attenti a non vivere un Vangelo scollegato siamo attenti a vivere una realtà finta perché viviamo in un altro mondo e basta ma viviamo in quello dove Dio ci sta chiamando al fondamento di Cristo quelli in cattività sono coloro catturati in battaglia imprigionati dalle menzogne in cui hanno creduto ci sono dei cuori che sono prigionieri delle menzogne in cui hanno creduto è il tempo di lasciare quella menzogna quella menzogna non andrà via da sola vi ricordate cosa ha detto l'apostolo oggi figlio d'uomo alzati in piedi e io ti parlerò ieri sera parlavamo su questo versetto perché c'è stata una riflessione lì il Signore sapete perché ci fa alzare in piedi perché vuole che usciamo dalla nostra condizione e quando noi decidiamo facciamo l'azione di uscire dalla nostra condizione Dio ci parla ma sta a noi decidere di fare quel passaggio di uscire a quella condizione e un'altra cosa il Signore ieri sera mentre ero qui per terra e adoravo il Signore mi ha mostrato sapete perché il Signore ci alza in piedi perché vuole che noi ci mostriamo per quello che siamo realmente senza vergogna il Signore il Signore ci chiama a essere nudi di fronte a Lui senza vergogna perché Lui la vergogna l'ha già coperta Lui ha già pagato anche per quella vergogna e invece noi siamo così chiusi dentro noi stessi siamo così pieni del nostro orgoglio della nostra giustizia e ci copriamo perché abbiamo paura e vuol dire che non stiamo ricevendo il pieno il totale perdono di Dio per la nostra vita e non siamo disposti anche a perdonare gli altri proverbi voglio leggervi velocemente tre passaggi di proverbi e poi chiudiamo velocemente se arriviamo alla fine tanto ci manca poco proverbi 19 e 11 proverbi 19 11 il senno di un uomo lo rende lento all'ira ed è sua gloria passar sopra le offese è gloria passare sopra le offese e ancora segnatevi proverbi 10 12 che dice l'odio provoca liti ma l'amore copre tutte le colpe 10 12 e i proverbi 17 9 che penso tutti conosciate che a volte ce ne dimentichiamo facilmente proverbi 17 9 che dice chi copre una colpa si procura amore ma chi vi ritorna sopra divide gli amici migliori quante volte noi siamo divisione piuttosto che copertura quante volte fratelle e sorelle detto l'apostolo lorenzo c'è un gran gossip noi ci piace parlare ci piace ascoltare anche dice sai quello mi ha detto quello quello mi ha fatto quell'altro è successo questo e allora noi abbiamo un po' il senso della croce rossina corriamo in una corsa alle persone e gli poverino poverino avete stata fatta un'ingiustizia e diamo adito alle situazioni di parlare alla carne di venire fuori piuttosto che coprire con l'amore e sapete che cosa mi sta facendo riflettere il signore che non è vero che siamo sempre le vittime ma dobbiamo essere piuttosto consapevoli a cosa Dio ci sta chiamando perché noi abbiamo un'attitudine come cristiani spesso di dichiararci le vittime perché tanto il signore lo sa io ho subito un'ingiustizia mi hanno fatto del male quella persona mi ha trattato veramente male ce l'ha con me eccetera 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 quindi siamo le vittime quanto ci piace essere le vittime o no? vi piace essere le vittime? ti piace andare a dire a giro che le persone vi hanno feriti? è la verità mi ha fatto male ma invece è vero che qualcuno ha sbagliato verso di noi ma il seguito dipende da noi e non dagli altri la risposta che tu dai a quell'offesa dipende da te non dipende dall'offesa parliamo la verità diciamo le cose come stanno non dipende da quello che ti hanno fatto ma dipende dalla risposta che tu dai perché quando Gesù è stato offeso lui ha risposto in un certo modo e ha risposto però secondo la giustizia di Dio perché se Gesù avesse risposto secondo la sua carne noi oggi non saremmo qui è vero il perdono il perdono non ci porta in territori angusti e di angoscia smettiamo di fare le vittime e siamo disposti a pagare il prezzo come Gesù ha fatto spesso noi siamo vittime ma poi diventiamo carnefici abbiamo questa consapevolezza e ci facciamo la nostra giustizia altro che perdono andiamo e diciamo a quella a quell'altro e dico io non posso perdonare come faccio anzi no facciamo di peggio diciamo io l'ho perdonato ma quella persona mi ha fatto questa cosa ma che perdono dov'è il perdono il perdono dice cancello ogni cosa il perdono vuol dire cancellare le cose lontane dal levante fino al ponente questo è il perdono Dio ha dimenticato il tuo peccato Dio ha dimenticato la tua condizione perché ancora noi oggi ci ricordiamo costantemente di quello che ci ha fatto quello o quell'altro e prendiamoci la nostra responsabilità questo ve lo dico e lo dico anche ai pastori prendetevi anche voi la vostra responsabilità di dire la verità alle persone quando vengono le persone da voi e dire sì è vero ti hanno ferito ma te cosa stai rispondendo ora cosa stai rispondendo fascia quel cuore aiutalo ma aiutalo a rialzarsi nel giusto modo non a giustificare quella situazione perché quel peccato continua ad andare avanti non siamo sempre vittime basta le vittime togli la vittima toglila la vittima uccidila ma come stai rispondendo secondo giustizia ti hanno ferito è vero sei stato ferito è vero succede o no però te puoi amare te puoi essere libero da quella ferita se tu la poni nel giusto modo dinanzi a Dio e Dio ti rialzerà e Dio ti raggrazia e ti rialzerà per questo dico pastori state attenti anche voi lo dico a me per primo stai attento Giovanni a cosa dice le persone perché a volte vengono le persone e siamo lì e le ascoltiamo sì è giusto ascoltare le persone state attenti come pastori noi dobbiamo ascoltare e dobbiamo anche riprendere le situazioni dove sbagliano però dobbiamo aiutare le persone ad arrivare alla croce non solo chi ha subito il torto cioè chi ha fatto il torto ma anche chi l'ha subito perché fino a che hai subito il torto ha sbagliato l'altro ma quello che te fai di quell'offesa è la tua decisione è la tua scelta e sei te a gestirla quella cosa o no ci siete? mi state seguendo? te puoi cambiare il corso di quell'offesa e la puoi togliere completamente la puoi cancellare perché rispondi secondo la parola di Dio e come Dio ti chiede di rispondere ma te la puoi portare avanti per anni e far sì che diventi una cosa incancrenita nella tua vita se te non la prendi nel giusto modo e non permette a Dio di fare un lavoro anche dentro di te Gesù ha pagato il prezzo e noi dobbiamo essere disposti a farlo uguale questo è importante e questo lo dico pubblicamente perché quando vengono da voi fratelli e sorelle si lamentano delle cose e vi raccontano di quello e di quell'altro dovete avere il coraggio di dirgli la realtà in faccia e di dirgli fratello sorella no vai e riconciliati con quella persona e se quella persona non vuole riconciliarsi con te però te nel tuo cuore getta tutto il peso verso il Signore e togliela dal tuo cuore si libero te verso quella persona non è libera lei quella è la sua responsabilità ma te si libera verso quella persona completamente perché questo è quello che Dio sta chiedendo a te non diamo la responsabilità agli altri ma ognuno si prenda la sua perché quando voi sarete di fronte al Signore il Signore non ti chiederà conto di quell'altra vita ti chiederà conto della tua e non potrai dire diversamente non potrai dire Signore ma perché saprai di fronte a chi sei i cristiani devono iniziare ad essere un pochino più attenti a quello che fanno loro piuttosto a quello che fanno gli altri perché questa è un'attitudine che c'è sempre stata i discepoli andavano da Gesù e gli dicevano di quello che sarà di quell'altro sarà e sapete cosa gli diceva Gesù a te che te ne frega te vieni e seguimi pensa a te pensa agli altri quando c'è da benedire ma se ci sono delle parole di riprensione delle cose pensa prima di tutto a te guarda prima di tutto nel tuo cuore come Gesù ha detto che è senza peccato che è senza peccato scaglia la prima pietra vi testimonio una cosa brevemente e poi chiudiamo anni fa è successa una situazione di tanti anni fa e io per carattere ringrazio il Signore perché oggi mentre mi preparavo stavo pensando a un insegnamento fatto diversi anni fa ad Agape a Pieve Pelago in cui dichiarai e dissi io voglio vivere l'avventura noi siamo pellegrini su questa terra ve lo ricordate? infatti pensavo a Monica perché Monica se lo ricordava di sicuro noi siamo pellegrini su questa terra e noi siamo in un cammino la nostra vita non è questa terrena noi qui siamo soltanto un'ombra dei beni futuri quindi noi stiamo vivendo soltanto una realtà latente non è questa la vera realtà questa è virtuale la vera realtà è quella dove saremo noi con il Signore per l'eternità quindi è l'incontrario di come noi pensiamo quindi noi siamo pellegrini io ho dissi una cosa io voglio vivere l'avventura che il Signore mi chiama a vivere per la mia vita voglio arrivare alla fine dei miei giorni dicendo Signore grazie perché ho vissuto intensamente ogni momento della mia vita e voglio guardare avanti e io ringrazio Dio perché questo Dio lo sta facendo in mezzo alle prove in mezzo alle battaglie ma è una determinazione un pensiero che c'è giorno per giorno e ringrazio Dio per questa cosa e so che Dio mi sta portando avanti e il Signore mi sta insegnando mi ha insegnato in tanti passaggi a dimenticare le cose stanno dietro va bene? a dimenticare ci sono stati tanti errori nella mia vita ci sono stati tanti sbagli ma io non posso fondare il mio futuro su quello che è stato il dietro il dietro mi ha servito per imparare oggi sono una persona matura sono cresciuta umanamente spiritualmente ho una consapevolezza diversa ma non posso vivere nella paura di ciò che è successo non posso vivere nel ricordo di ciò che è successo devo imparare a vivere in ciò che Dio vuole fare avanti perché io non mi posso fermare e non posso permettere che quello che è stato ieri determini quello che sarà il mio oggi perché deve essere Dio a determinarlo Dio lo ha permesso e non ho rancori di tutto dove sono passato vi dico la verità non ho rancori di dove sono passato nel bene e nel male anche in tanti passaggi di difficoltà non ho rancore perché oggi non sarei qui a parlare a voi non sarei qui a raccontare a voi certe cose non sarei qui ad incoraggiarvi ad esortarvi quindi è una gloria tutto quello che è stato il passato non è un motivo di vergogna cioè chi si vergogna del passato io non mi vergogno ma ringrazio Dio perché oggi sono qui però ringrazio Dio perché il passato dietro lo dobbiamo affrontare perché non ci sia la paura del nostro passato ma dobbiamo andare avanti perché altrimenti non arriveremo alla meta e io mi ricordo di tanti anni fa di una situazione dove io feci degli errori verso un passaggio e mi furono dette delle cose in maniera molto tost, brutte ok e io però nel mio cuore sapevo che avevo sbagliato però è vero anche che fui bastonato bene bene però mi si è questa cosa nelle mani del Signore e ho ringraziato Dio ho lasciato andare questa cosa perché sapevo che comunque io avevo fatto i miei errori dovevo prendermi la mia responsabilità dei miei errori e dopo anni una certa situazione è venuta a me e mi ha detto guarda è successo una cosa anni fa io mi ricordo di un passaggio e ti devo chiedere perdono e io ringrazio Dio perché io l'avevo già dimenticata per me era già passata però Dio è buono e porta perché se noi siamo liberi il Signore spingerà poi le persone al momento opportuno ma tutto dipende da noi non dipende dagli altri dipende da te non dipende dagli altri ricordate lo fratello e sorella non dipende dagli altri ma dipende da te e Dio è fedele perché se te credi che Dio è buono lui sarà capace anche di far vedere l'errore al tuo fratello alla tua sorella ma te liberati di questa cosa e dimentica e dimentica e dimentica se ancora ogni giorno della tua vita a te c'è quel pensiero che viene nella tua mente vuol dire che non hai perdonato se ogni costante è una costante della tua vita che viene avanti di certe cose vuol dire che non hai perdonato lascia andare il tuo passato lascialo andare perché Dio non lo sta trattenendo amén dobbiamo avere il più coraggio dobbiamo avere il più coraggio dobbiamo avere più coraggio di perdonare dobbiamo avere più coraggio di prenderci la nostra responsabilità dobbiamo avere più coraggio di guardare in faccia la nostra realtà e ringraziare Dio però perché lui la cambia la trasforma questo non ve lo dico state attenti non dico perché questo sia un'accusa perché non deve essere un'accusa sennò avrei sbagliato tutto ma ve lo dico perché ognuno di noi abbia la responsabilità la consapevolezza ma questa consapevolezza ci porti a un cambiamento profondo della nostra vita a decidere di lasciare andare lascia andare quel passato lascia andare quella situazione non la trattenere più e ricevi oggi il futuro nuovo che il Signore ti vuole dare se no non lo riceverai abbi più coraggio sii disposto a liberare anche chi ti ha fatto dal male sii disposto ad essere una pietra di rottura per rompere il tuo passato e il passato anche degli altri amè? amè amè? amè? gloria a Dio sicuramente abbiamo di che riflettere è vero? da oggi da stamani mattina il discorso è molto intenso ma credo che il Signore ci sta parlando lo Spirito di Dio ci sta parlando perché perché abbiamo bisogno veramente di entrare nel nuovo tempo dove il Signore ci vuole far entrare e non ci entriamo con le cose del passato appunto già da oggi pomeriggio abbiamo parlato dell'amore l'essenza di tutte le cose l'amore stamani mattina la restaurazione di tutte le cose e oggi pomeriggio l'essenza di tutte le cose che è l'amore e ogni dono che l'amore ci fa e se noi abbiamo ricevuto questo dono per noi noi siamo chiamati a perdonare quindi dare questo amore agli altri a prescindere di quello che ne faranno Dio ci ha dato il suo amore incondizionatamente ma è anche vero che non l'abbiamo usato così bene poi alla fine in certe cose alcune volte sì alcune volte no ma lui ce l'ha dato gratuitamente e Gesù ha detto come io ho fatto a voi voi fate questo agli altri io vi ho dato un esempio affinché come ho fatto io così fate anche voi e il perdono ci scioglie se perdoniamo di cuore scioglie noi e scioglie anche loro anche quelli che forse in quel momento non lo vogliano o non lo comprendono appieno perché Gesù Cristo il perdono che ci ha dato ci ha sciolti ma non tutti l'hanno compreso subito alcuni non l'hanno proprio compreso ma non era un problema di Dio è un problema nostro e questo siamo chiamati anche noi a perdonare per liberare noi e liberare gli altri questa è la grandezza dell'amore amen io credo che abbiamo da riflettere non andare chissà in quali meandri ma nella semplicità e dire signore questa è la tua parola è vero amaestrami insegnami io voglio imparare ancora e lui lo farà non aspetta altro che insegnare alleluia amen